Non maestro. Il sole di un giallo brillante trasformava la grigia periferia in nastri luccicanti. Egles ho chiuso gli occhi e attraversò sul motorino piazza sforza lentamente. Un giovane con i capelli lunghi dipingeva su una tavoletta di legno quelle scene di luce. Forse era uno studente come i tanti artisti di strada del quartiere. Egles pensò che anche lei aveva vissuto così prima di laurearsi. Sbucò nel viale delle Accomandite e percorse un centinaio di metri fino alla scuola di meditazione in una stradina parallela al viale. Nella luce cruda di quel giorno l'entrata della scuola appariva sbiadita e in cattivo stato. Egles parcheggiò il motorino e si chiese chi avrebbe incontrato. Erano passati due anni da quando aveva lasciato la scuola perché nel suo ufficio era aumentato di molto il lavoro che adesso il direttore le aveva sottratto brutalmente. Egles però non aveva mai smesso di meditare e anzi sentiva che adesso poteva insegnare l'atto del meditare perché lo condivideva con persone che erano ovunque e sconosciute. La scuola era più piccola di come Egles la ricordava. Salì i tre gradini che conducevano nella segreteria ed entrò in una stanza piena di ombre. Si sedette vicino a un computer acceso in attesa di qualcuno. Dopo un po' alzò la testa e rivide il suo maestro giapponese giunto silenziosamente. Si abbracciarono prima con lo sguardo. Rimassero così per qualche istante. Egles disse maestro non maestro disse l'uomo hai dimenticato tutto? No anzi ho meditato da sola ogni volta che potevo. Egles osservò meglio l'ambiente. Era modesto ma lo amava. Lì era stata in pace. Quel luogo l'affascinava. Con il maestro avevano meditato molte ore da soli. Quando nella scuola non entrava ancora anima viva. In principio il contrasto tra l'isolamento di quel luogo e la grande città le era sembrato irreale ma poco a poco aveva apprezzato la bellezza della meditazione che adesso le era familiare come un vestito vecchio. Il maestro lo aveva incontrato dieci anni prima su indicazione di una collega. Lo aveva cercato nell'estrema periferia della città dove il maestro allora abitava tra i ciuffi di Erika che crescevano radi nel terreno sassoso. Egle aveva finto di cercare il maestro dove abitava nell'unica casetta che si stagliava contro il cielo grigio ma nella realtà lei prima aveva cercato il suo maestro dentro di sé. Si era avvicinata alla casetta e aveva chiamato ad alta voce maestro calaco mi manda una sua allieva e aveva atteso. Pensò di essersi sbagliata forse il maestro non abitava più là. Poi udì una voce esile ma forte che le disse di attendere. Egle osservò i fiorellini azzurri che facevano capolino fra l'Erica. Gli esseri minuscoli l'avevano sempre affascinata. Dopo poco il maestro le andò incontro sorridente. Dimostrava meno di cinquant'anni anche se ne aveva oltre settanta. Aveva la pelle intatta e quando la toccò Egle avvertì le sue mani morbide e forti. Calaco meditava con i suoi allievi o in solitudine per molte ore al giorno e si rammaricava di interrompere la meditazione per i bisogni del corpo fisico. Quel piccolo uomo attrasse Egle sin dall'inizio. Calaco era talmente assorto mentre la osservava che dimenticò di tenere dritto un mazzetto che perdeva i fiorellini azzurri raccolti per Egle. Quando si accorse che i fiorellini si erano ridotti di molto, Calaco ci rimase male. Tese il braccio e annunciò che quello che era rimasto del mazzetto era per lei. In questi attimi ho saputo molte cose di te, disse il maestro. Che cosa chiese Egle? Che sei venuta qua perché in te c'è un mutamento legato a una persona che ti sta ancora accanto. Egle trasalì Mattacque. In quel periodo il suo compagno la stava per lasciare. Anche per questo lei si era avvicinata di più alla ricerca spirituale. Calaco continuò. A me non interessa il perché del tuo mutamento che comunque è sempre per il meglio. A me interessa come ti apri a ciò che trascende te e la persona per cui il mutamento è avvenuto. Non capisco, disse Egle. Tu vieni da me per meditare, disse il maestro, per avere un contatto con l'oltre. E allora ti chiedo come puoi pensare che l'oltre non incida già nella tua vita, nella tua mente, nel modo di concepire te stessa e nel modo di rappresentarti agli altri. Proprio perché è l'oltre. In poche parole, come puoi pensare che l'oltre non abbia a che fare con tutto il tuo essere? Infatti non lo penso e anzi lo auspico di Segle. Per questo sono qui. E allora perché sei trasalita quando ho parlato di mutamento? Il maestro Calaco insegnava così ai suoi allievi. In quel primo contatto con la meditazione Egle non desiderava staccarsi da se stessa. Nello stesso tempo voleva viaggiare dentro di sé e imparare nuove parole della lingua spirituale.